oh santo santo per favore vota sia sto bad di p***a mamma mi ha sparato ma devi fare bimbo minchia che cazzo vinci ma no due voti per rimuovere bad dai curami non ti ho sparato io non ti ho sparato io no muvidi curami dai sti ho sparato no 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 dai c'è la morta a terra ma che faccia la faccia perplessa spara lo spara lo spara lo spara lo spara lo spara di merda che c'hai non mi muore ok uno in meno oddio mamma mia hai visto attuazione dai c'è qualcuno che mi aiuta oh bed bed non prendere il fuge dopo perché sta lo stavo oh non prendo più il fuge ha sinistra vai pucialo vai 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 siii qualcuno a destra, 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 giù che culo, manco l'ha preso ah santo, dimentico sempre viva god mi ha sbloccato un trofeo ambizione cieca perché sei cieco ti ha insultato il gioco ma che bastardo il gioco mi insulta entrano, 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 dalla porta da qua, dalle finestre cos'è ambigua qua, 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 stanno entrando e che cazzo oh da dietro, vedete, dietro, dietro, hanno fatto un buco dietro, dietro, dietro oh qua ne ho ucciso uno comunque non so come aspetta mi sfaro una cura anch'io macchinina del cacchio ok ok, ce n'è uno qua dietro dove? spotta faccio io ok ferito su, vai uccido l'Alfonso l'hai finito? ma non è morto ok adesso è morto ok, chi l'ha ucciso? oh grazie a me chi l'ha ucciso? grazie a me io ho ucciso il penultimo perché io ero guarda qua, vedi qua ah guarda la ma che culo ero questo qua io ho set di vita merda li avevo trovati vai 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 rocket league attenzione i scia powerhead che bello ancora attenzione sfrutta la scia sandora emics attenzione se infilano qui sotto curva a sinistra poi subito a destra attenzione si cira lì si cira dietro tornante prova a salire le scale prova a salire le scale oddio c'è un frost c'è un frost birmante ok andiamo ghostbust facciamo il ghostbust oh ssh non rompe qualcosa l'ho rotta io la finestra stanna ah bravo ok vieni qua bet dove vai no cazzo dov'è? no 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 qua ne ho trovato uno no la bomba la bomba la bomba porca vacca mi lasci concentrare ti ho detto che stava il kill e tu manco ci vai si ma si si ahhh che culo dai non più pari occhio ce n'è un altro ce ne sta un altro ce ne sta un altro all'angolo vai 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 ciao ciao grande mamma mia eh abbiamo parato però non ce la faccio eh chi l'ha detto nooo bastardo eh beh l'ho visto eh beh mi sa che sono al secondo piano sto giro allora no no è l'ultimo allora second floor ma non è vero ma chi non lo so però se giri a destra metti la freccia no e ancora allora 10 secondi ma chi è ah bed ma chi sei mi tamponate che bello sfruttare vengo col mio drone oh cio cio ma guarda bed come spot santo bed anche se fa 0 chi l'arriverà primo senti alfonso tutte le partite oddio qua era buona ebana era buona ebana la p***a ma che devi dire le povolacce non so santo me lo prepisci no poi dando taglio il magico potere del tagliare aspetta che ne metto una oddio oddio sono caduto di nuovo ve lo curavo io qua io ho aperto una finestrina qua di fianco aspetta ci scendo dall'alto spiderman spiderman minchiala è attento occio mamma mia mamma mia oh mio cosa ho fatto raga entriamo raga entriamo si 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 raga sta fuori aspetta qua 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 ok ucciso ucciso si si guarda come un birra come un birra sparava la finestra non ho fatto niente però grandi questa bisogna vederla miglior giocatore bettano cadì aspetta aspetta distruggo io l'avete già distrutta no l'avete già distrutta oddio santo a chi si spara e non lo so uno l'ho colpito ma non è morto mi chia bed ci sei andato di culo stavo premendo il pirletto e mi sei passato davanti te lo giuro mi perdoni si si poi questo lo lascio nel video ti faccio vedere di quanto hai sgarrato ma va 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 è un suicida no rischia bett guarda è amante del rischio ma poi la cosa più bella è che non è che rischia con me è lì davanti alla porta che ecco 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 ma che faccia ma che faccia a terra non stavo aspettando ragazzi non me lo aspettavo ascoltà appena entri giri a porta ho tirato via anche la tracola occhio è fuori è fuori no che figlio di uccanana che figlio di uccanana vai santo vai 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 oddio oddio santo le stragi madonna madonna mia madonna mia no da l'altra parte tanto eh è niente che figa che figa oh yeah santo se fai così mi aumenti la niente in peggio devo spararti e le rotule se ne vanno via guarda va va yeah vai di rotule ma dai mi hanno ucciso mi hanno ucciso ma che bastardo ma che bastardo sparo sai quanto ci godo che muove questo ciao ci stiamo guardando tutti dentro in faccia raga scusa santo scusa santo no 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 watch watch no 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 ho parlato della pigliacchieria di bed quando ho detto scusa santo e mi sono dovuto vendicare mi dispiace ah porca 1 a 1 sul lucernario preso ok vado io vado io vado io vado io aspetta ok si l'ho visto preso l'ho preso io preso io c'è n'è un altro morto no aspetta scusa no ma fa no è bravo ma che palle che palle e vai ok santo remi occhio a sinistra ne hai una a sinistra sempre lì a sinistra però sicuro si mira aspetta aspetta no sempre sempre in fondo dove hai sparato l'altro però tu a sinistra ci dovrebbe essere uno no porca fai una cosa vai ok oddio cosa fa cosa sto facendo usando tutti e tre li ho fatti entra entra no entra 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 aspetta che tolgo e porca oddio oddio lì no porca bastardo maledetto perché praticamente ti sei trovato nella linea di fuoco che io l'avevo mirato ed ero zoomato nel momento che ho premuto r1 c'eri tu in mezzo praticamente e ti ho shottato infatti io foto assist no dai bett non ci gioco più no te lo dico me ne vado nooo no veramente no mi stiamo vendo mo no dai ammazzatemi santo ammazzami no 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 seconda segnalazione seconda segnalazione in un giorno dai ma smettiti di segnalarmi te dai no ma vaffan cuore in cucina mi pare che era la cucina wow tutti qua sono tutti tre ce ne avevo non è giusto no 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 sinistra ce l'ha cazzo fuori che mi ha ucciso ah cazzo capito il cingale l'avete presa l'hai presa la corassa yeah la danza dei pirla va capito il cingale no ma cosa sta facendo no il primo vabbè tutti mo due ne ho uccisi tutti 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 io le ho uccisi tutti quelli della no 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 quelli sulla bomba le ho uccisi tutti io no 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 quelli sulla bomba le ho uccisi tutti io no 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 grossicone grossicone ne ho uccisi tutti no 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 tacendo occhio cioè qua mi sta cadendo uno va 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 che roba ma che schifo questo c'è il fucile di babbo natale la musica di babbo natale ora si muove ora si muove no amore per la trappola di frost scommettiamo secondo me gli sparano da dietro mi sta chi è dominato ha indovinato ha indovinato non ho detto no amore per la trappola di frost esatto però non mi fa pezzare la trappola aspetta no salto no salto devo piazzare non l'ho messo devo piazzare prima la trappola me l'ho messo vai ma che che fai sei il tipo tappo non mi mettiamo la trappola no non mi mettiamo ahaha è si Grazie a tutti. No, ti ha sparato su per il tubo! Occhio, occhio, occhio! Stanno andrando stanno... Aiuto! Aiuto! Che cazzo? Abbestemmiamo, che cazzo? Ok, ok, uno fatto... No! 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 Colpa di Alfonso, mamma quanto mi fa subito? Mamma ti uccido, mamma ti uccido, andiamo su, ma ho fatto fuori, ma intanto... No, dietro, dietro! Preso! Ma perché dici dietro? Perché dici dietro? Dietro a te, dietro a te, guarda, quando passi, quando passi... Vabbè, effettivamente ce l'avevi a destra, cioè ti ho dato anche un colpo... Dai, dai, un round l'abbiamo... Dai, dai, dai! Ciao, possiamo... Santo Remix, warm around! Ok, dove siete? Guarda Bad che spot, guarda Santo, guarda Bad, guarda! Oh, qua c'è la musica! Qui c'è la musica, ragazzi! Yeah, yeah, yeah... Yeah, yeah, yeah... Yeah, yeah, yeah... Guarda, guarda... Guarda c'è la musica! Sei ditemi in giro, guarda... No! 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 Mi scappo! Qua! Mi pare che ce l'hai a destra... No! Aspettiamo, ti sfondo qua! No! No, davanti, 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 davanti! Occhio, bene, davanti! Ma se sei in pirla, Alfonso, sei in pirla! Qua! Ci castre! Va! Sta chiudendo! Non se lo becca! Morto, cazzo! Vai, 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 vai! No! Che cazzo ho fatto? Che cazzo ho fatto? Nooo! Questo stava ricaricando, se n'era andato! Guarda, guarda, se n'era fuggito subito! Come potevo ammazzarlo? Chi ti ha spappolato tutto! Stava ricaricando, se n'era andato! Guarda, guarda, se n'era fuggito subito! Come potevo ammazzarlo? Chi ti ha spappolato tutto! Santo, tu guarda lì! Beh, tu guarda là! Alla dietro! Santo, dovete entrare! Nooo! Niente, ci hanno distrutto! Va bene! Era un monumento! Guarda che bella coppita che eravamo! Cioè, guarda, guarda, eravamo vicini vicini! Guarda che dove ci eravamo! Cioè, secondo me non se ne è accorto neanche che ne ha uccisi due! Eh, vai avanti qua! Eh, sinistra! Qua dove c'è l'uomo a terra! A sinistra! No! 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 L'avevo ammazzato! Te l'ho spavolato in testa! Preso! Grande! Santo! Cosa si dice? Grazie signore! Grazie! Grazie! Signore! Grazie! 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 Ok, uno è andato! Ok! Ucciso un altro! Ma sono lui! C'è morto! Vai! Vai! Esci! Spara! Esci! Vai! Vai! Preso! Bene! Bene! Preso! Santo! Se vanno a trappare uccidere il famoso dopo uccidi lui! No dai! Santo! Non farlo! No! No! Sta black build! È quello con lo scudo di prima! Questo ti ammazza! Devi rimanere fermo a mirare! Allo scudo! Sta lì nella porta! Mira a destra! Vai! Yes! Si! Yes! Yes! Madafacca! Sai! Sta facendo 5-1! Santo! Che mostro! No! Amico! Non sparare dai! Men! Occhio che questa! C'è una finestra bucata! Occhio! Bucata!! Mamma mia! Che cazzo! L'ho avvisato! Io vado libero, raga, ciao! Saluto, Antonio! Ciao, ciao!